Musica Ragazzi, come è Duccio? Oggi vi faccio vedere cosa uso per registrare e come monto i video Bene, prima di tutto per il gameplay utilizzo Fraps Fraps è un programma che è a pagamento ma comunque potete provare anche la versione di Pro che fa video da 10-5 secondi Però potete anche scaricarvelo gratuiti trovando tipo dei siti vari A pagamento costerà, se o no, 15-16€ Vabbè, non perdiamoci in chiacca e raffriamolo Sì Aspettiamo un attimo che carichi Madonna Aspettiamo ancora un pochino Tranquilli che è tutto normale, ok Vedete? Ok Fraps Per questa opzione di Fraps ci sono vari settaggi Questo qui è registrazione, registration details, David Vermand, Hotmail Questo qui di solito non dovrebbe interessare Ma io di solito per utilizzare Fraps Do la spunta su Fraps window always on top E poi metto monitor aereo desktop Monitor aereo desktop ragazzi serve soltanto per registrarvi lo schermo Ma io sinceramente per registrare lo schermo utilizzo Camtasia Ma diciamo che Camtasia è un po' Forse è soltanto per i montaggi di solito Perché diciamo che fa un po' di lag riguardante alcuni giochi Ma è per questo io per i giochi utilizzo Fraps Andiamo nella cartella FPS E in questa cartella ci sono le reimpostazioni degli FPS E per questo dovete premere F10 Per me dovete premere F10 per risistemare tutti gli FPS E qui ho avrei il hotkey E in posto dove andranno sistemati i numeri degli FPS Lo potete mettere a destra in alto A destra in basso A sinistra in basso E a sinistra in alto Io di solito metto a sinistra in alto Perché boffa Non lo so Perché ce l'ho già trovato Poi la finestra più importante che dobbiamo settare È questa finestra Movies In questa finestra tu vedete La parte dove dovete andare a registrare il video La Capture Che per me è F9 Ma potete settare tipo F10 F7 E varie robe Questo video capture settings Sono gli FPS Dei frame time dei video Io normalmente utilizzo 60 FPS Però potete optare anche per 120 FPS Che vi viene un video Proprio col botto Di base troverete full size Che ha una risoluzione maggiore rispetto ad half size Però diciamo che full size tira un po' di lag E riduce i frame degli FPS E poi diciamo che non va l'unico video come half size Perché in full size Il video viene settato diciamo in tante clip Per questo io vi consiglio di mettere half size Qui su Sound Capture Settings Dovete premere Dovete optare per Record Windows 7 Sounds Così si sente la traccia dell'audio del gioco Andate su Multi Channel Record External Input Mettete il vostro microfono e la vostra webcam Però ragazzi Vi voglio spiegare una cosa Se dovete fare il video con webcam Dovete togliere questa spunta E andare a registrare il microfono che usate per la webcam Perché se no diciamo viene un mischio di audio Non so perché Vabbè comunque io non uso webcam E per questo spunto qui Magari in futuro In futuro userò la webcam Ah e poi qui su folder to save movies in Vi farà vedere dove salverà i vostri video Così potete andare direttamente su view E qui potete controllare Dove vi appare Qui sullo schermo Qui vi apparirà anche il vostro video Ora chiudiamo E riprendiamo fraps Poi l'ultima finestra Che secondo me è quella che serve Diciamo per fare le minature video E' questa The screenshot Di screenshot Per fare gli screenshot Io utilizzo f10 E quindi ogni volta che premeremo f10 Scatterà una foto direttamente dallo schermo Io image format Metto bmp Per screen capture settings Non vi consiglio di fare niente Però da questi screenshot Potete andare direttamente qui A vedere tutti gli screenshot Che avete fatto del vostro Del vostro video Del vostro Del vostro Del vostro gioco Ok Adesso passiamo Alla fase di montaggio Per montare Ragazzi Io utilizzo Camtasia Camtasia studio Camtasia studio E' un programma A pagamento Però ci può essere anche La versione di prova E questa versione di prova Vi durerà 30 giorni Per questi 30 giorni Dovete Spenderli Se ce la fate A fare diversi video Io principalmente L'ho preso Camtasia studio Che è il programma Migliore Che ho visto Per Per fare Per montare i video Per questo programma Se volete importare I video I video Di fraps Dovete andare su Import media Andare su Qui Su documenti Questi documenti Vi troverete Vari video Settati Sia per VLC media player Sia Sia per Windows media player Andate a selezionare Il video Adesso io non ho video Di fraps Però Ho video Di Camtasia Un video Un po' vecchiotto Questo Questo video Andrà posizionato Sulla Prima Barra di lavoro Sulla prima Barra di lavoro Apparirà Una Specie di Ecco Una specie di Track Questo Però Per i video Di Camtasia Per i video Di Camtasia Che adesso Io non ho Dove Troverete Capture Capture One Come avete chiamato Il vostro video Di fraps Lo troverete collegato Insieme all'audio Però Ragazzi Voi sapete Che cosa c'è Sempre In ogni Scritto C'è Ogni scritta Del mio video All'inizio Del mio video C'è sempre Il Capture Il Capture Sì Il Capture In ogni mio video C'è sempre Il Callout Il Callout Ragazzi È un effetto Che hanno messo Soltanto su Camtasia Su Sony Vegas Ho visto Che non ci sono Le animazioni Questo non mi è dispiaciuto Io potevo Anche utilizzare Sony Vegas Per montare i video Però non importa Allora Per settare L'opzione Del Callout Dovete Fare Doppio click Mentre vi apparirà La La barra di lavoro 3 Dove andrà Posizionato L'effetto Del Callout Per l'effetto Del Callout Una volta Selezionato Nella barra di lavoro Dovete andare qui A scrivere Il titolo Del vostro video Per il titolo Del vostro video Potete mettere Varie robe Io per esempio Scrivo Cane Cane Allo Zaba Ione Cane Allo Zabaione Episodio 5 Così a cavolo Una volta fatto questo In ogni mio video Come al solito C'è sempre Un Una canzoncina Questa canzoncina Che utilizzo Per il mio video E' la tida Che non è coperta Da copyright Io Non metterei Mai full song Perché con Full song Mi verrebbe Un Un video Una Diciamo Un inizio video Lungo 3-4 minuti Per questo io Prendo la intro E la Che è successo Prendo la intro E la vado a posizionare Sulla balla di Lavoro 4 Al minimo Così che possa venire Diciamo Una Una parte Tra La tida E L'animazione Del 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 Robo Del Del Callout Ora vi faccio vedere un esempio Qui parte Vedete E poi da qui parte il video Adesso Bene Ragazzi Adesso io vi ho mostrato Tutto quello Che c'era da sapere Su come Montavo Ah mi ero dimenticato Di farvi vedere una cosa Aspettate che Apro Che lo riapro Volevo spiegare come dovete Settare Le opzioni Per fare un video A 720p In HD Apriamo di nuovo Camtasia Adesso Adesso Aspettiamo un po' Che Che carichi Quando Quando Riapriamolo Un attimo Camtasia Non so perché Va bene Apriamo Di nuovo Camtasia Riapriamo Camtasia Successo Ecco Riapriamo di nuovo Camtasia E Per fare Un Un vostro video A 720p Dovete andare Qui Dovete premere Produce And share Produce And share Cliccate su produce And share Aspettate adesso È scomparso Il video Di quel robo Lì Vabbè Una volta Settate queste Queste opzioni Del call out E robe varie Fate partire il video Guardate Dovete poi Fare produce And share Ok Qui Dovete mettere M MP4 Only Only Up To 720p Dovete Un video In hd Premete Avanti Aspettate E qui Date il nome Al vostro Al vostro video A cavolo Vabbè Poi premete Fine E da lì Partirà Il rendering Del video Ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi E noi Ci vediamo Al prossimo Video E alla prossima Spiegazione Ciao ragazzi Spiegazione 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 Grazie a tutti.